Non è blindandosi sulle questioni della giustizia, sulle questioni personali del Premier che il Governo può essere in grado di affrontare i problemi degli italiani. C'è bisogno di investimenti, c'è bisogno di riforme per l'economia. In queste ore il Governo ha approvato i piani di investimento per i prossimi anni e ha contestualmente detto agli italiani ci saranno riduzioni del 20% sugli investimenti. Crediamo che queste prospettive siano ancora più preoccupanti e anche queste prospettive ci portano a dire c'è bisogno di voltare pagina, così non si può andare avanti.